Che palle Oggi è sabato Dobbiamo restare Sì lo so dobbiamo stare decreto Che cazzo vuol dire? Non mi interessa Oggi è sabato E che sia dentro o fuori casa Stasera faccio serata Ma che cazzo Quarantena tecno C'è un decreto del consiglio dei ministri Che ci dice di stare a casa